Ma che professionisti, ma che trasfertisti! La squadra mobile di Verona, dopo particolate indagini, è risalita ai responsabili della rapina ad una sala giochi, avvenuta diversi mesi prima. Si tratta di due incensurati di 20 e 32 anni, il più giovane di Badia Calavena, sui Lessini, l'altro di San Felice del Benaco, versante bresciano del Lago di Garda. Avevano sottratto diverse migliaia di euro in una sala giochi. È una rapina molto particolare, commessa alle 10 di mattina del 13 settembre dell'anno scorso, quando due ragazzi, parzialmente travisati, con cappellino e occhiali a sole, sono entrati in questa sala giochi. Minacciando la commessa presente in quel momento con un coltello alla malunga, sono impossessati di oltre 4.600 euro. Da prima abbiamo pensato che fossero soliti i rapinatori da trasferta e quindi non residenti qui a Verona. In realtà poi lo sviluppo investigativo ci ha portato a individuare due ragazzi, fra l'altro molto giovani, uno residente a Brescia, ma frequentante ovviamente a Verona e l'altro addirittura qui in pianta stabile da tempo. Grazie ai rilievi della polizia scientifica è individuato il più anziano dei due rapinatori. L'altro fermato grazie all'analisi dei tabulati telefonici e ad un'intensa attività di individuazione fotografica da parte della persona rapinata. Il pericolo più grande rappresentato da questi malviventi, mossi probabilmente da impellenti necessità economiche, visto che uno di loro era rimasto a piedi col lavoro, risulta l'assoluta inesperienza. C'è un imprevisto o qualcosa che non va a buon fine, possono incorrere in reazioni anche abbastanza particolari. L'uso dell'arma è sicuramente un'altra valutazione di forte rischio.